Ciao a tutti, oggi prepareremo le farfalle risottate panna prosciutto e piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono piselli, burro, prosciutto cotto a dadini, scalogno, panna da cucina bimbi, acqua, sale, pasta tipo farfalle e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i pisellini, il prosciutto ed azioniamo il bimbi per 5 minuti, 120 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungiamo l'acqua, il sale e portiamo a ebollizione per 7 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungiamo adesso la pasta. mescoliamo con la spatola. Andiamo a cuocere per il tempo indicato sulla confezione che nel nostro caso è circa 11 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Due minuti prima del termine della cottura aggiungeremo la panna e la noce moscata. Fermiamo il bimbi, aggiungiamo la panna, la noce moscata, amalgamiamo con la spatola e continuiamo la cottura. sempre per altri due minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. la pasta è pronta, andiamo a impiattare. Farfalle risottate, panna, prosciutto e piselli. grazie e alla prossima ricetta. grazie a tutti. grazie a tutti.